Il generale Leone era là, come un inquisitore, per assistere al supplizio dei condannati, pochi minuti alle nove. Il battaglione pronto, baionette in estate, la nona compagnia intorno alla breccia dei guastatori, la decima dopo, le altre serrate, in trincea, nei camminamenti, dietro i roccioni, non si sentiva un bisbiglio, solo muoversi borracce di cognac, borracce di cognac, dalla cintura alla bocca. Dalla bocca alla cintura, dalla cintura alla bocca, dalla bocca alla cintura, senza arresto, come spolette di un grande telaio messo in movimento. Cognac! Il capitano Bravini, orologio alla mano, seguiva il corso inesorabile dei minuti, senza levare gli occhi dall'orologio, gridò, pronti per l'assalto! Poi riprese, pronti per l'assalto, signori ufficiali, in testa ai reparti. Il sergente guastatori, fuori dalla trincea, continuava, avanti, 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 avanti. Gli occhi dei soldati cercavano i nostri. Quelli del capitano erano occhini sull'orologio, così i soldati trovarono i miei di occhi. Io sorrisi, o mi sforzai di sorridere, dissi loro a fior di labbra qualche parola, ma gli occhi, quegli occhi pieni di domande e di angoscia, mi scomentarono. Pronti per l'assalto, rispose ancora il capitano. Di tutti i momenti, di una guerra, quello prima dell'assalto è il peggiore, il più terribile. L'assalto. Si abbandonano i ripari. Si esce. Dove? Le mitragliatrici, sdraiate sul ventre, imbottito di cartuccio, aspettano. Chi non ha conosciuto quegli istanti non ha conosciuto la guerra. Le parole del capitano caddero come un colpo di scure. La nona era in piedi. Io non la vedevo, talmente era addossata ai parapetti di trincea. La decima di fronte, lungo la trincea. Io ne distinguevo, tutti i soldati. Due si mossero, li vidi, uno in fianco, all'altro, aggiustarsi il fucile sotto al mento. Uno si curvò, fece partire il colpo, si accovacciò su se stesso. L'altro lo imitò e stramazzò accanto al primo. Era codardia? Coraggio? Pazzia? Il primo era un veterano del Carso. Savoia! Gridò il capitano Bravini. Savoia! Urlarono i reparti e fu un urlo, gridato, come un lamento, un'invocazione disperata. La nona, tenente Avellini, in testa, superò la breccia, si lanciò all'assalto. Il generale, il colonnello, alle feritoie, il comando del battaglione esce con la decima, gridò il capitano. E quando la testa della decima fu alla breccia, noi ci buttammo fuori. La undicesima, la dodicesima, seguirono di corsa in pochi istanti. Tutto il battaglione era sotto le trincee nemiche. Che avessimo gridato o no, le mitragliatrici ci aspettavano. Appena oltrepassata una striscia di terreno, di roccia, cominciamo la discesa verso la valle ed essi aprirono il fuoco su noi, scoperti. Le grida nostre coperte dalle raffiche sue, a me sembrò che contro di noi tirassero dieci mitragliatrici. Talmente il terreno fu attraversato da scoppi, da sibili. I soldati, colpiti, cadevano pesantemente, cadevano pesantemente, pesantemente, come fossero stati precipitati dagli alberi. Io per un momento fui avvolto da un torpore mentale. Tutto il corpo divenne lento, pesante. Son ferito? Son ferito? Pensavo. Son ferito? Forse son ferito. Eppure sentivo di non essere ferito. I colpi vicini delle mitragliatrici, l'incalzare dei reparti dietro che avanzavano dietro alle spalle mi svegliarono ripresi coscienza del mio stato. Non rabbia, non odio, come una rissa, ma una calma completa, assoluta, una forma di stanchezza infinita intorno al pensiero lucido. Poi anche la stanchezza scomparve, ripresi la corsa veloce. Ora mi sembrava di essere ridivenuto calmo. Vedevo tutto intorno a me. Ufficiali, soldati, cadevano con le braccia alzate nella caduta. I fucili venivano proiettati in avanti, lontano. Sembrava che avanzasse un battaglione di morti. Il capitano Bravini non cessava di gridare «Savoia!». Un tenente della dodicesima mi passò vicino, rosso, in viso. Impugnavo un boschetto. Era un repubblicano. Aveva in odio il grido d'assalto monarchico. Mi vide e gridò «Viva l'Italia!». Avevo in mano il bastone da montagna. Lo levai in alto per rispondergli «Ma non potei pronunciare una parola!». Se noi ci fossimo ritrovati su un terreno piano, nessuno di noi sarebbe arrivato ai reticolati nemici. Le mitragliatrici ci avrebbero falciati tutti, ma il terreno era leggermente in discesa. Coperto di cespugli di sassi, le mitragliatrici erano obbligate a spostare continuamente l'elevazione, il puntamento. Il tiro perdeva della sua efficacia. Non. Pertanto le ondate d'assalto diradavano e su mille uomini del battaglione pochi restavano in piedi e avanzavano. Io guardai. Verso le trincee nemiche i difensori non erano nascosti. Erano in piedi. Si sporgevano. Oltre la trincea si sentivano sicuri. Pareva addirittura che fossero dritti sui parapetti. Sparavano su di noi, puntando calmi, come in piazza d'armi, io urtai contro quel sergente dei quastatori. Rovesciato sul fianco, con la sua corazza, col suo elmetto forato da parte a parte, colpito alla testa. Ancora ripeteva il grido che gli era stato troncato con una cantilena pietosa. avanti, avanti, attorno, giacevano tre guastatori con le corazze squarciate. Giungevamo alle trincee. Anche il capitano Brevini fu colpito, lo vidi, braccia aperte, sprofondarsi in un cespuglio, lo credetti morto, ma subito dopo ne senti il grido. Savoia! 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 Ripetuto con voce fioga, spezzata, a intervalli. Savoia! Savoia!